Queste vicende alluvionali dell'ultimo periodo sicuramente richiedono una risposta importante soprattutto nelle competenze della Regione. Sì, la Regione sta assorbendo veramente di tutto a livello di notizie, di informazioni, di dati che illustrano la catastrofe che ci ha colpito in tutto il territorio. Come ho detto prima, noi dobbiamo assolutamente in questo momento raccogliere per poi aiutare ma abbiamo imparato che dobbiamo intervenire prima che succedano questi disastri e ci sono le possibilità, soprattutto manutenzione, quella che molte volte lo si dice ma non si dà nessun aiuto a chi vuole prevenire e questo è un'interesse regionale assolutamente se non vogliamo veramente tutte le volte illudere le persone che dopo dei danni del genere non abbiamo poi le risorse ad aiutarli. Nel suo intervento lei ha parlato anche di meno burocrazia. In effetti meno burocrazia anche perché la burocrazia è stata costruita dalla politica e quindi proprio è la politica che si deve rendere responsabile di quello che ha fatto e da di lì intervenire per aiutare. Quindi è una responsabilità sulle spalle della politica e la burocrazia creata dalla politica francamente se la politica vuole può essere tolta e ridotta a costo zero. È solo buona volontà.